Dante amava Gemma Donati, sua moglie? Probabilmente no. Non ho le prove delle mie affermazioni, ma bisogna considerare che Dante parlava veramente poco di sua moglie. Malgrado abbia avuto quattro figli con Gemma Donati, Dante parlava davvero poco di Gemma Donati. Scrive parecchi testi per Beatrice, la donna che lo accompagnerà nel paradiso, un grande poeta che scrive la fine commedia, composta da 14.233 versi, che non scrive neanche una piccola poesia nei confronti di sua moglie, rimango senza parole. A voi le dovute considerazioni. Ciao, al prossimo video. A presto. Ciao.